Città più bella e pulita grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani in collaborazione con il Comune di Fano e l'Assessorato all'Ambiente. Domenica prossima, infatti, dopo l'incontro al Don Orione e la celebrazione di una Santa Messa, il gruppo di Fano II si ritroverà in Sala della Concordia per incontrare il Sindaco Massimo Seri. Al primo cittadino consegneranno la Carta del Coraggio contenente una serie di impegni per la collettività che si assumeranno gli scout ma che vincoleranno, d'altra parte, anche l'amministrazione comunale. Lo stesso documento poi verrà consegnato nel primo pomeriggio anche al Vescovo Armando Trasarti. La Carta del Coraggio è questo documento che i ragazzi tra i 16 e i 21 anni della nostra associazione hanno prodotto con un cammino che è partito l'anno scorso. Si sono ritrovati tutti insieme l'estate 2014 a San Rossore e con dei delegati, uno per gruppo, che si sono ritrovati in questo parlamentino hanno scritto tutti insieme questa Carta del Coraggio che è divisa in due aspetti fondamentali. Cosa i ragazzi, questi 30.000 ragazzi che si sono radunati, si impegnano e invece cosa chiedono alle istituzioni. Dopo la consegna al Sindaco Seri si recheranno a ripulire i luoghi simbolo della scitta di Fano grazie al materiale fornito da Aset S.P.A. Incominceremo dai passeggi, poi andremo alla Rocca Malatestiana e saremo anche alla chiesa di Sant'Agostino in via Vitruvio e di fronte a teatro. In quanti sarete domenica? Allora, la giornata di domenica vedrà impegnato tutto il nostro gruppo quindi gruppo scout a Gesci Fano 2 e all'incirca diciamo saremo un'ottantina. Il gruppo comprende circa 30 bambini dell'età compresa tra gli 8 e gli 11 anni quindi della Branca Lupetti e Coccinelle più piccoli 35-40 ragazzi del reparto, quindi esploratori e guide di età compresa tra i 12 e i 16 anni e poi circa 10 ragazzi del clan, gruppo Rover e Scolte di età invece tra i 16 e i 21 anni e poi noi capi. Sarà dunque un importante impegno civico che permetterà di ripristinare il decoro urbano. Un'iniziativa dal forte valore simbolico che però segna anche l'inizio di un percorso di collaborazione tra l'amministrazione comunale e gli scout della Gesci.